e qui ho visto la webcam dell'Antoniova il Dio Fabio lo so bene però la febbra bisogna tenersi la buona quando è che la neve è taccativa bisogna cercar di tirarsi in buona ed emenar la tuta del lente se la tu vuoi perdere nel saor la febbra non tu lascerai più tocca asciugar la tuta del fiale lei da tenersi tutta lì guante che la è benvenida non è sempre facile portarla di volta a volte la scampa senza arrendere conti non la è mai benvenida pronto stupoleria lo stropolo incantato buongiorno vorrei ordinare un milione di tappi di sughero non ne abbiamo più e stropoli di sughero? non ne abbiamo più allora un milione di alberi di plasticone non ne abbiamo più che che? Antonio! il maschio non il che taca non il che riva perché non le alzò il livello guarda come il subri che il bat la sardina che il ledrio tirare il scarpe la si olta la si grinta la si ingrinta non la volsa per ne tirarsi in quattro che sarà la pota ma il stropolo è sfrissa e il batombole non la è mai benvenida il maschio non attacca perché non ci arriva non è al suo livello lo guarda come un cagnolino che batte la fame e che tra poco muore non ci arriva Grazie a tutti.